La situazione è la seguente, da comunicazione pervenuta dalla ASL i nostri cittadini purtroppo ricoverati che lottano per la propria salute e che stanno lottando grazie alla collaborazione dei nostri operatori sociosanitari sono due, mentre le situazioni di contagio isolato in casa sono scese a 9 casi. È chiaro che la situazione sembrerebbe ritornata, ricondotta in una situazione di rischio molto più contenuto, ma questo se lo possiamo dire lo possiamo dire soltanto grazie alla collaborazione di tutte le persone che stanno restando a casa. Ed ecco perché è fondamentale arrivare a quel 13 aprile, la fattidica data del 13 aprile senza focolari a Bitonto, conservando e salvaguardando questa azione, questa situazione alla quale siamo arrivati grazie alla collaborazione di tutti quanti. In tempi record, nel giro di 5 giorni lavorativi stiamo già erogando i voucher, ma nel frattempo non potevamo restare a guardare persone che soffrivano la fame, che magari avrebbero potuto sentire il bisogno di entrare, di uscire fuori di casa, di compromettere magari determinate situazioni. Quindi grazie alla rete di volontariato, a tutte le aziende che hanno risposto, devo dire tutte, al mio appello. Il nostro pensiero va innanzitutto ai bitontini che hanno perso la vita, due sicuramente, forse tre, che hanno perso la vita a causa del Covid, perché avevano alcuni problemini di salute prima, però sicuramente il Covid ha determinato la loro situazione. Il nostro pensiero va alle altre due persone ricoverate che stanno lottando tra la vita e la morte. Il nostro pensiero va contro quei deficienti che continuano a prendere la scusa della spesa, della farmacia, tutte cose consentite da legge, per uscire di casa più volte, fermarsi con l'amico. Il vostro atteggiamento sta sputando in faccia alle persone che hanno rischiato la vita per tutelare il nostro territorio. Vi prego di utilizzare coloro che saranno beneficiari invece dei voucher, di utilizzarli facendo la spesa una volta a settimana, otto giorni, non approfittate della disponibilità del governo per addirittura organizzare un'azione di ritorsione contro. Siamo al traguardo, un traguardo che può veramente farci tirare un piccolo sospiro di solevo.